ciao a tutti ragazzi sono sesterso grosso e benvenuti in questo nuovissimo video prima di passare al video in questione mi raccomando fate le solite cose che già sapete ma che io vi devo ripetere perché se questo canale come vi ho già detto un giorno lo interromperò ma quel giorno non è oggi quindi mettete subito un bel like slash pollice in su come cazzo come cazzo potete chiamare ecco il pollicetto eccolo chiameremo il pollicetto oggi no pollice troppo immaturo meglio chiamarlo cazzo di like ed iscrivetevi al mio canale youtube e attivate sempre la campanella delle notifiche per per restare sempre sintonizzati su tutti i contenuti che porterò adesso dopo e chissà fino a quando allora gente allora so che tutti voi state aspettando l'analisi di apology tour però ci arriveremo ci arriveremo devo ancora devo ancora un pochetto pensare a tutto quello che avrò da dire sull'analisi di apology tour perché io non ho un copione da scrivere in quel caso avrei potuto usare questa scusa però in questo caso assolutamente devo usare questa scusa perché si devo davvero pensare a che cosa dire ancora perché c'è ancora me lo devo rivedere un paio di volte ok quindi lasciatemi un po di tempo che ragazzi ma volevo parlare di un'altra cosa che è stata detta tempo e tempo fa ma che io non ero mai venuto a conoscenza innanzitutto però fatemi mettere la telecamera perché mi sembra un pochetto storta ok bene ovvero sul fatto che forse è l'uva boss avrà un doppiaggio ufficiale in italiano allora questa cosa qua non è stata confermata da nessuna parte infatti è solo una mia teoria però vizipop mesi fa aveva detto che praticamente che è l'uva boss avrà una se una serie ridaglie avrà un doppiaggio ufficiale in spagnolo saur dire in italiano mi stavo per confondere o no in spagnolo ed è strano che di solito le web serie che di solito sono serie che stanno su youtube abbiano un loro doppiaggio effettivo attuale ufficiale in altre lingue quindi dato che vizipop sta facendo non so dove non so dove l'ho scoperto praticamente stamattina ho detto no che non potevo non farci un video apology tour passa in secondo piano assolutamente secondo me merita ma merita tantissimo un doppiaggio italiano perché alla fine ragazzi la gente si sta appassionando la gente di tutto il mondo già prima era appassionata di di azbi nutelle dell'uva boss in generale nuovo che è uscito azbi nutelle in tutto il mondo incluso qua in italia adesso la gente è proprio impazzita e si sta recuperando anche l'uva boss quindi io mi sono sempre detto ma la terza stagione uscirà su prime video insieme ovviamente a tutte le altre però in questo caso rifatte ed in questo caso anche con il loro doppiaggio effettivo sulle sulle varie regioni del mondo dove usciranno quindi che sono in spagna spagnolo in italia italiana in francia francese in cina cinese eccetera no così via e dato che vizipop ha detto che per l'appunto e l'uva boss avrà un un doppiaggio effettivo ufficiale da veri attori slash doppiatori spagnoli a sto punto perché mi chiedo che del perché non lo dovrebbero distribuire anche in tutto in tutto il mondo anche quindi spero che almeno dalla terza stagione in poi l'uva boss venga rilasciato in tutto il mondo su prime video ovviamente perché almeno testa su prime video sarebbe un pochetto una truffa non mettere anche l'uva boss su prime video dall'altro per me sarebbe una cosa devastante sentire allora per chi allora il video potrebbe anche finire qua però vi dirò una piccola cosa ovvero che si oltre all'analisi di apology tour ci sarà qualche video teoria su l'uva boss perché sono riuscito a trovare qualcosa su vasago oppure qualcos'altro che non lo so ancora lo devo teorizzare eccetera no e poi io ho un fan cast italiano per l'uva boss sì però ve lo rilascerò nella community quindi a seconda dei post della community infatti dopo questo video vedrete il la parte 1 del mio intero fan cast italiano per l'uva boss quindi restate sintonizzati sulla community perché così potremo potremo parlare senza insultarci ovviamente però potremo parlare teorizzare magari chi potrebbe essere perfetto chi no quale voce voi dareste io sì voi no magari abbiamo le stesse le stesse preferenze di voce come doppiatore italiano per alcuni personaggi che ancora non lo sono stati doppiati perché ovviamente una web serie però sarebbe fighissimo il fatto che l'uva boss da web serie diventasse una serie attuale cioè per me sarebbe proprio una figata una figata proprio una di quelle mo non dico che anche per mo non dico che deve essere per forza magnifico però c'è cazzo stai a mettere l'uva vabbè insomma avete capito no qui io sono proprio un fanboy di vizipop comunque il video finisce qua fatemi sapere la vostra se siete eccitati come me per per un possibile arrivo di un di un di un cast italiano per l'uva boss se così accadrà io io sborrerò come come fa smoteus quando sta insieme a pizza forse questa qua me la potevo risparmiare però non posso non potevo poi che altro volevo dirvi non mi ricordo quindi vabbè noi ci becchiamo al prossimo video che scommetto sarà spero quello su sull'analisi di apology tour dovrete aspettare un pochino magari questo fine settimana oppure addirittura prossima settimana i primi della prossima settimana arriverà l'analisi di apology tour però scommetto di più sto fine settimana poi vabbè si vedrà ricomincerò a fare video di più spesso quindi mi raccomando restate sempre sintonizzati e noi ci vediamo in un prossimo video che scusate se mi sono allungato troppo ciao